La nazione si sta dimenticando dei lavoratori, dei lavoratori italiani, dei lavoratori che hanno contribuito sempre a versare, a dare l'aiuto allo Stato perché si mantenga lo Stato. Qui veramente c'è da pensare e dire che a questo punto che fine facciamo. Vicini seppur nel dramma d'aver perso il lavoro, i dipendenti dell'ex Lametal di Oliero appena avuta notizia di quanto accaduto ai colleghi dell'Ax Nobel di Fellette non hanno aspettato un attimo e sono scesi dalla Valbrenta per portare la loro solidarietà a chi come loro sta vivendo momenti davvero critici. Siamo con loro, siamo per loro e siamo qua in quest'altra realtà purtroppo bassanese che porterà, speriamo di no, alla chiusura anche di questo stabilimento. Intanto i lavoratori della multinazionale olandese non intendono arrendersi e sono pronti a tutto. Anche loro da lunedì allestiranno un presidio permanente davanti allo stabilimento di via Montetomba in attesa dell'incontro con gli industriali di Bassano venerdì prossimo e sono grandi lo sconforto e la rabbia. Si devono ricordare che hanno lasciato 120-112 bambini per strada devono pensare, non solo a noi, però ai bimbi che colpano quello che devono pensare quei signori in alto là che hanno le tasche pieni di schei. Loro pensano solo ai loro profitti però non pensano ai dipendenti che purtroppo lavorano e fino all'ultimo minuto abbiamo fatto il nostro dovere fino alla fine. Siamo dei numeri per loro, soltanto numeri, non persone. Per loro siamo dei numeri. Questa è la realtà purtroppo. Ma oggi è stata una giornata particolarmente intensa dal punto di vista emozionale, uno scambio di solidarietà e conforto tra lavoratori. Sì, perché i 112 dipendenti AXO hanno pensato ai colleghi e amici di Valstagna da settimane in presidio permanente e da mesi senza uno stipendio. È venuto spontaneo ringraziarli innanzitutto perché loro stanno peggio di noi. Almeno noi a fine mese i soldi sono sempre entrati e abbiamo deciso tutti insieme di donare il nostro pacco che è già arrivato dallo a loro che hanno più bisogno di noi. Pacco di Natale. Certo, Pacco di Natale.